Pure in Africa si muoiono di f***e, eppure i problemi sono noti a tutti. Detto questo, noi non siamo più stronzi di voi che se siamo vaccinati già da prima che non era obbligatorio il Green Pass. Quando manifestate, create pure aggregazione. Quindi vi state preoccupate del vaccino, ma che state in 8.000 in piazza, uno a fianco all'altro, non vi preoccupate che poi potete attaccare il Covid.